I movimenti ambientalisti di Taranto tentano di superare le divisioni interne per intraprendere una strada condivisa. Basta con i distinguo e le differenzazioni che rischiavano di indebolirne le posizioni e via libera un percorso unitario con il comune obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. I rappresentanti di associazioni e comitati di volontariato si sono spontaneamente riuniti avanti e risera, si sono confrontati, hanno esposto con pari dignità le rispettive idee e considerazioni, abbandonando posizioni di primogenitura. Erano presenti le associazioni 12 giugno, Alta Marea che raggruppa una serie di movimenti ai cittadini, Clororosso, Donne per Taranto, Fondo Antidiosina, Greenpeace, Legam Ionici, Malati Cronici ed Immunitari, poi il Comitato di Quartiere Tamburi, l'Associazione Savese per la Vita, l'Associazione Tamburi 9 luglio 1960 anno zero, Taranto Futura, Taranto Leader e terra delle gravine. Il mondo ambientalista tenta anche di respingere le sirene della politica, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Nel loro comunicato è scritto che non tutte le associazioni e i comitati sono stati concordi nel voler dare al tavolo ambientalista anche una finalità politico-elettorale, ritenendola lontana dei propri obiettivi.